Parliamo della cavitazione. Che cos'è? La cavitazione è quel fenomeno per il quale all'interno di un fluido si formano delle bolle di vapore che rapidamente, repentinamente implodono provocando un rumore caratteristico nel macchinario dove avviene questo fenomeno. È un fenomeno tipico delle eliche delle navi, delle giranti delle pompe e proprio di questo vi voglio parlare, cioè della cavitazione nelle pompe centrifughe. Le pompe centrifughe hanno delle curve di funzionamento caratteristiche che secondo le quali devono funzionare. La più classica è la curva prevalenza della portata e della prevalenza una in funzione dell'altra, come sono legate in funzione delle caratteristiche idrauliche portata, dove possiamo vedere l'andamento della pompa. Hanno poi la curva relativa all'assorbimento del motore elettrico della pompa, ovvero quanta corrente, quanta energia assorbe la pompa in funzione del punto di lavoro, quindi della pressione portata alla quale sta lavorando, ed una curva che è quella del NPSH, ovvero l'altezza di aspirazione massima alla quale può lavorare una pompa. Parliamo quindi di pompe centrifughe che tipicamente hanno un NPSH, ovvero non sono pompe autoadescanti che quindi aspirano autonomamente l'acqua, ma devono essere prima di tutto innescate, ovvero riempite di acqua, e secondariamente avere un'altezza di aspirazione dell'acqua che non supera quella indicata dalla famosa curva di NPSH. Perché se costringiamo, per così dire, una pompa a lavorare con un valore di aspirazione dell'acqua più basso rispetto a quello caratteristico, incorreremo sicuramente nel fenomeno della cavitazione. La cavitazione è un fenomeno estremamente pericoloso, perché può portare al danneggiamento della girante della pompa stessa in tempi anche rapidissimi. Questo fenomeno lo possiamo vedere anche sulle eliche delle navi. Se guardate queste immagini vi potete rendere conto di cosa succede. In sostanza cosa accade? In prossimità dei profili della pala dell'elica della nave si formano delle bolle d'aria. Queste bolle d'aria provocano una carenza di rendimento dell'elica della nave e un rumore caratteristico. La stessa cosa avviene all'interno di una girante di una pompa. In pratica cosa accade? Tipicamente in prossimità dei profili di attacco della girante della pompa si formano delle bolle di vapore, perché in pratica superiamo la tensione di vapore per cui il liquido comincia a evaporare, ovvero scende a una pressione talmente bassa per cui evapora. Qui ci dovremmo rifare a un principio di fisica legato all'acqua. Noi sappiamo che l'acqua bolle a 100 gradi, ma se mettiamo l'acqua in un contenitore sottovuoto ci accorgeremo che la temperatura di ebollizione scende tantissimo. Ebbene, nel momento in cui provochiamo una carenza di pressione, quindi una depressione molto elevata nella zona della girante, questa provoca una vaporizzazione del fluido, una vaporizzazione dell'acqua. Quest'acqua che evapora provoca delle micro implosioni che danneggiano la girante. In queste immagini vedete alcuni esempi di danni provocati proprio dalla cavitazione. È un fenomeno estremamente pericolo, ma il fenomeno della cavitazione può essere indotto non solo da un errato valore di NPSA, ma può essere indotto anche da un'errata installazione della pompa. Ad esempio, da collettori di aspirazione dimensionati in modo errato, quindi con diametri non sufficientemente adeguati ai dati di progetto della pompa, oppure da collettori che presentano delle asperità, che presentano degli spigoli vivi. Ad esempio, se mettiamo sull'aspirazione di una pompa direttamente un gomito o una T vicinissima alla pompa, questi spigoli possono generare delle depressioni che causano formazioni di vapore e quindi cavitazione della pompa. Questo vapore si distribuisce sulla girante, accentua la depressione nella zona di aspirazione della pompa distruggendo la girante. Quindi è importante quando si va a installare una pompa fare molta attenzione ai valori di NPSA, rispettare l'altezza di aspirazione della pompa o mettere la pompa sotto battente, ovvero creare un battente positivo, una pressione positiva sull'aspirazione della pompa e allo stesso modo progettare adeguatamente in modo corretto i collettori di aspirazione. Porre molta attenzione quando si dimensionano le valvole di fondo, valvole di un ritegno, valvole in aspirazione. Tutti questi fattori devono essere controllati con estrema attenzione, altrimenti i danni sono irreparati. Spero di essere stato chiaro, se avete altri dubbi contattatemi pure. Grazie e buona serata a tutti.